Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato dal CISAM dal titolo Nella selva silente, suoni e silenzi nelle foreste medievali, secolo VI-XIII di Paolo Galloni, che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite insieme a Riccardo Rau, al quale io lascio subito la parola perché ci introduca a queste selve silenti. Prego Riccardo, a te. Grazie mille, innanzitutto è un grande piacere che partecipa alla presentazione di questo libro, che lo dico fin da subito, è un libro che si legge con grande piacere, scritto anche proprio con una scrittura avvolgente e ricco anche di racconti che consentono di penetrare, potremmo dire, lo spirito delle foreste, delle foreste alto medievali in particolare. È un libro, potremmo dire, ancipite, vi dico subito, ancipite nel senso che ci parla della foresta, in particolare della percezione della foresta, ma che poi apre anche una riflessione più ampia a quello che è il ruolo del suono, delle percezioni sonore nella cultura medievale. È anche, potremmo dire, il compimento di un percorso. È un libro che in qualche modo completa un percorso di ricerca pario, articolato, come quello del suo attore Paolo Galloni, ma che nello stesso tempo è come se in qualche modo in quest'opera tirasse le fila di questa lunga attività. Insomma, un po' tutti conoscono il suo libro sulla caccia. Adesso cito un po' a memoria il titolo Il lupo e il cervo, è uscito per la terza, è giusto Il lupo e il cervo. Il cervo e il lupo. Il cervo e il lupo, 30 anni fa. Però, insomma, poi Paolo è andato avanti nella ricerca, ha scritto delle cose molto interessanti, per esempio sui temi della memoria, che poi tornano anche in maniera importante all'interno di questo libro. Bene, ecco, è un libro che quindi, diciamo, non è come magari qualcuno potrebbe pensare, leggendo distrattamente il titolo del libro, un libro, non so, di storia agraria, neppure realmente soltanto di storia del paesaggio, anche di storia del paesaggio, perché chiaramente noi sappiamo che quando si fa storia del paesaggio ormai gli elementi percettivi legati alla percezione del territorio, della definizione stessa di paesaggio, così come è proposta dalla Convenzione europea sul paesaggio. Quindi questi temi hanno un ruolo importante, però appunto c'è di più, non è solo un libro di storia del paesaggio. E questo è in qualche modo il primo punto che volevo discutere anche un po', per così dire, per rompere il ghiaccio, per riscaldarsi con Paolo. È anche un libro che in fin dei conti penso ecco di fargli un complimento. Se dico che è un libro in cui si sente molto anche l'influenza di Fumagalli, di Vito Fumagalli e di Massimo Montanari, che sono in qualche modo tra i maestri e gli ispiratori della ricerca di Paolo. Quindi, come dire, proprio per rompere il ghiaccio, la prima cosa che volevo chiederti è proprio un po' qual è il tuo rapporto con Fumagalli e con Montanari, chiaramente da un punto di vista culturale e scientifico. Grazie. Il mio rapporto è innanzitutto un rapporto di gratitudine perché sono partito da lì, da Bologna negli anni Ottanta, lavorando appunto con Massimo Montanari e Vito Fumagalli. Bene o male l'impronta è rimasta, seguendo una strada personale che però ha mantenuto assolutamente vivo questo filo di interesse per quello che in gioventù potevo definire il rapporto tra l'uomo e la natura e che oggi vedo in una prospettiva un po' diversa che vuole essere più medievale perché è una delle cose che mi interessano di più, che mi sono interessate di più nella ricerca di cui stiamo parlando, è stata la ricerca del rapporto tra percezione e cultura. Quindi, essendo l'essere umano di per sé culturale, natura e cultura sono così intrecciate da essere inestricabili e dunque sono andato alla ricerca di quelle zone comuni in cui la cultura determina la percezione e la condiziona benché la percezione sia un fatto che dipende anche da coordinate biologiche che però sono così intrecciate con la cultura da non essere separabili. Ecco, è per questo che ho tanto spesso intrecciato racconti per poter mostrare o cercare di mostrare qual era la cultura che dialogava con la percezione o qual era la percezione che emergeva dalla cultura. E quindi per queste cose fin dall'inizio ho cercato di mettere in chiaro che quella medievale non è la nostra natura ma che è la nostra natura che è un'entità ormai spiacevolmente separata dalla cultura umana anche se un po' forzatamente ai nostri giorni si cerca di riunire questa separazione che però nei secoli scorsi è stata così radicale che l'impresa è decisamente improba. La natura medievale invece era il creato, un creato in cui la presenza del creatore era in modo diverso sempre sotto gli occhi di tutti almeno potenzialmente e determinava quindi una potenzialità di esplosioni di significati estremamente varia che è anche molto interessante cercare di decodificare appunto attraverso attraverso le testimonianze molto varie delle fonti e in alcuni casi anche attraverso i silenzi impliciti delle fonti ecco che è un altro aspetto su cui ho riflettuto a volte le fonti sono esplicite a volte sono implicite e in qualche caso mi è sembrato legittimo cercare di leggere anche attraverso l'implicito. Sì dico ecco intanto che intanto ecco tornando solo velocemente a Fumagalli e Montanari senz'altro penso che Paolo in questo libro abbia di Fumagalli innanzitutto la capacità di racconto e anche un gusto secondo me per il racconto di potremmo dire di un certo mistero insomma di una certa capacità evocativa delle foreste medievali e tra i temi diciamo avviati da da Massimo Montanari c'è effettivamente questa riflessione profonda sul ruolo della cultura penso che ci barra la pena anche magari tornare alla fine della nostra chiacchierata su questi aspetti cioè su come la cultura in qualche modo superi la biologia superi quasi gli aspetti neurobiologici insomma relativi alla percezione. Da questo punto di vista tu citavi il tema del creato insomma questo è effettivamente un passaggio fondamentale diciamo che apre di fatto la prima parte del tuo libro e che ci aiuta a comprendere il fatto che dobbiamo studiare le fonti iuxta propria principia potremmo dire quindi stiamo parlando di fonti medievali e quindi non possiamo decontestualizzarle da quello che è il sistema di riferimenti culturali degli uomini che hanno vissuto che hanno vissuto nel medioevo quindi anche su questo magari torneremo non possiamo abbandonarci a un'idea anacronisticamente ecologica dell'uomo dell'uomo medievale ma dobbiamo capire qual era il suo modo di intendere il paesaggio in questo caso in questo caso la foresta. La foresta di di cui parli è una foresta, abbiamo detto innanzitutto è in buona misura la foresta ma non solo perché comunque si arriva ampiamente fino fino al dodicesimo o tredicesimo secolo quindi fino alla fine potremmo dire dei secoli centrali dell'uomo medievale. È una foresta indagata potremmo dire prevalentemente attraverso le fonti letterarie geografiche anche iconografiche ma non soltanto insomma perché poi ci sono anche altri tipi di documentazione che vengono presi in considerazione. Dal punto di vista geografico la prospettiva potremmo dire è assolutamente europea nel senso che si va dal nord Europa alla Francia l'Inghilterra che tra l'altro hanno un'attenzione notevole all'interno del libro, alla penisola iberica fino naturalmente all'Italia. E dal punto di vista potremmo dire dei contenuti è una foresta innanzitutto una foresta come spazio reggio, di questo dici e dici molto bene insomma su come proprio le prime menzioni già Merovinge che usano la parola foresta la intendono esattamente in questo modo cioè uno spazio non esclusivamente incolto talvolta anche coltivato che è di pertinenza del del sovrano ma è anche una foresta con con diversi attori sociali cioè con l'aristocrazia, i contadini, i monaci. I monaci hanno un ruolo importante nella foresta così come raccontata all'interno di questo libro. E infine anche proprio per in qualche modo inquadrare quello che è il protagonista di questa storia è una foresta potremmo dire che ha una sua voce, una sua voce, un'anima sensibile mi viene quasi da dire. C'è un passo molto bello molto raffinato anche di commento delle fonti legato a un codice di Sangallo dove un copista che riprende un'opera di svetonio integra in qualche modo un elenco un elenco in cui sono riportati i vari animali con il suono con il suono che mettono, il lupo che ulula, quasi un elenco quasi relativamente che sembra quasi un esercizio grammaticale linguistico, insomma, letto così di fila ma lo integra in una maniera tale, facendo riferimento al fatto che per esempio il pioppo, c'è il fremito del pioppo, il pioppo emette un fremito, le acque, il corso delle acque mora, ecco lo integra in maniera tale proprio da farci immaginare una foresta con una sua anima sensibile con una con una propria con una propria voce. Questo insomma mi sembra che sia l'oggetto del libro e ti chiedo da questo punto di vista, se vuoi dirci qualcosa di più a riguardo, nel senso che io penso soprattutto anche a questa foresta come spazio di cui i monaci si appropriano, cioè com'è che i monaci ad un certo punto entrano in contatto con la foresta, tu lo spieghi molto bene nel tuo libro. Sì, indubbiamente la foresta aveva anche un'anima sensibile, a un certo punto mi permetto anche un breve escursus etnografico per dire che sussiste ancora un legame, anche se un nesso possibile tra la foresta medievale e foreste invece pensate da popolazioni tra virgolette primitive e prendiamolo come un complimento. Perché il mondo, questa porzione di Medioevo era ancora una cultura in cui l'essere umano si rapportava al creato in modo analogico, questa espressione che è stata un po' resa, non dico popolare, ma nell'ambito degli studi antropologici è stata diffusa soprattutto da Philippe Descolat, che individua un tipo di cultura che il Medioevo europeo condivide con altre culture dell'Asia per esempio, ma anche qualcosa dell'Africa, un tipo di cultura in cui a fronte di diversità morfologiche del diverse entità del creato, tutte queste diverse entità sono però grazie unite da un legame di senso, per cui sostanzialmente tutto può significare tutto. Questo è importantissimo dal punto di vista della percezione, perché nel momento in cui dentro la foresta si percepisce un suono o si entra in contatto con una realtà, questa viene letta a molti livelli, credo con una ricchezza semantica maggiore rispetto a quella che è possibile oggi. Per cui il suono dell'acqua di un torrente può essere neurobiologicamente pacificante, però può anche rimandare alla minaccia, può rimandare però anche al bisogno, può rimandare allo spazio sonoro adatto alla meditazione e allo stesso modo la foresta può essere vissuta su molti piani, uno scusitamente materiale in cui ci si procaccia acqua, legna. Si va a caccia per apponda della classe sociale a cui si appartiene e quindi anche a seconda di quale è il gruppo sociale che si muove all'interno della foresta, a seconda del tipo di individuo che si muove nella foresta, i livelli di percezione possono cambiare proprio in base anche alla cultura della persona, alla cultura di appartenenza. Chiunque poteva partecipare di tutti i livelli culturali, la percezione del monaco poteva essere perfettamente condivisa dall'aristocratico che andava a caccia e viceversa, però prevaleva un aspetto rispetto a un altro. Per cui vi era appunto una foresta dei potentes che spesso in alcuni aspetti si sovrapponeva anche alla foresta dei monaci perché erano donazioni dei potentes che facevano sì che porzioni di foresta appartenessero poi ai monaci e venissero in qualche modo anche riformulate culturalmente per cui da spazio appunto di utilizzo aristocratico si passava a uno spazio di utilizzo sacralizzato e questa sacralità dello spazio poi poteva venire esasperata se si installava in una certa porzione di foresta un santo erenita e si creavano situazioni anche per cui la foresta del monaco faceva da ponte tra le due, tra la foresta del laico aristocratico e la foresta del santo per cui la foresta del monastero aveva una duplicità di funzione o da un lato materiale mentre quella del santo era soprattutto spirituale, quella invece dell'aristocratico che si riservava i diritti di caccia aveva una valenza molto più attenta alle gerarchie sociali e a un tipo di rapporto con l'animale che si declinava in modo assai diverso rispetto a quello del santo da un lato si rappresentava un conflitto e una presenza quella dell'aristocratico che era politicamente di dominio dall'altro invece dove c'erano i monaci e ancora di più i santi si rappresentava una presenza divina che instaurava un paradiso terrestre e questo valeva anche sul piano del vissuto dei suoni della foresta. I suoni della caccia non sono certamente i suoni della foresta che circonda l'eremita e a volte, tra l'altro questo è un tema che davvero il tema che mi accompagna forse da trent'anni, questi due mondi entrano in conflitto anche dal punto di vista sonoro, il frastuono della caccia e il silenzio invece che viene portato dal santo, che è un silenzio che non è l'assenza di suono ma è il mormorio naturale della foresta. Questo infatti è un passaggio, sono passaggi molto belli anche convincenti del tuo libro e mi ha segnato una domanda appunto sulla relazione tra suono e distinzione sociale nella foresta in qualche modo ne hai già proprio anticipato la risposta, tra l'altro c'è anche come dire, ci sono anche i contadini in tutto questo e anche loro tendenzialmente hanno delle sonorità che spesso sono più silenziosi, ad un certo punto insisti sulla caccia contadina che è una caccia fatta nel silenzio rispetto a quella diciamo quella più conclamata potremmo dire degli aristocratici, la caccia è soprattutto rumore come ci dice pasturo che tu citi proprio nel libro. Ecco, uno spazio importante riceve anche il tema delle acque all'interno del tuo libro, l'acqua sempre legata alla foresta e l'acqua che è consapevolmente pensata, ecco anche questo ci lasci intravedere come un elemento che crea rumore, crea rumore soprattutto nel rapporto con la pietra, un'acqua che ha veramente una grande capacità simbolica, vuol dire dall'acqua come elemento di purificazione ma anche come ostacolo e ecco quindi allora ti chiedo di parlare di questo aspetto e anche se vogliamo leggendo mi sono chiesto se c'è nelle fonti che tu hai analizzato una distinzione tra acque ferme e acque mosse per esempio, tra laghi e fiumi nel modo in cui vengono rappresentati dalle fonti rispetto proprio a questi temi legati alla percezione. Sì, allora qui facciamo intanto una confessione autobiografica, la centralità nel mio lavoro delle acque anche dal punto di vista sonoro appunto è dovuta sì all'aver constatato la paradigmatica polissemia delle acque anche dal punto di vista acustico, c'è della loro capacità di significare molte cose in positivo in negativo però c'è certamente anche un mio coinvolgimento personale che mi porta verso il suono delle acque sto bene vicino all'acqua soprattutto all'acqua corrente dei boschi l'acqua di cui parliamo è principalmente un'acqua corrente, cioè un'acqua fresca, un'acqua potabile che viene utilizzata soprattutto dai monaci e dai santi come inevitabile e necessario strumento di sussistenza ma che nello stesso tempo e contemporaneamente è una componente di questo creato che significa più di tanti altri aspetti la presenza divina e la possibilità per l'eremita o per i monaci di sintonizzarsi con questa presenza proprio grazie alla capacità dell'acqua di apportare nutrimento ma anche di produrre un suono che sintonizza la mente con l'ambiente intorno cioè che abbatte fondamentalmente la barriera tra il corpo umano o contribuisce ad abbattere la barriera tra il corpo umano e il mondo esterno per creare una grande sintonia di meditazione quindi diventa una componente importante di quella sorta di paradiso terrestre che la meditazione del santo e dei monaci tentano di ricreare questo è un aspetto ammetto che ha mosso un forte fascino in me per cui mi ci sono soffermato molto ci sono anche dei momenti in cui si parlano più di acque ferme come quelle dei laghi ma soprattutto nelle fonti che ho incontrato io che la mia trattazione non è per nulla esaustiva in questo caso vengono segnalate come versionano dei prodigi Gregorio di Tour che racconta di popolazioni ancora pagane che fanno sacrifici umani e buttano oggetti e bestiame dentro un lago per chiamare la pioggia tra l'altro con la pioggia che poi arriva quindi lo stesso Gregorio di Tour sembra quasi disapprovare l'origine pagana del sacrificio ma non negarne l'efficacia fino all'instaurazione di un nuovo culto cristiano al posto di quello pagano che ottiene gli stessi effetti ma in forma meno cruenta e anche acusticamente più silenziosa perché questa sorta di barraonda del culto pre cristiano finisce e viene sostituito da più miti, processioni e canti devozionali e poi c'è il mare che è un mondo a parte in cui dal punto di vista culturale fa decisamente la differenza l'origine geografica delle persone perché chi viene dall'Europa interna vede nel mare soprattutto una grande minaccia mentre le popolazioni insulari hanno un rapporto più articolato con l'elemento oceanico e quindi questo aspetto si arricchisce invece di elementi decisamente più positivi senza per questo che venga a cadere l'aspetto del pericolo però le fonti irlandesi soprattutto per quanto riguarda il mare sono un unicum rispetto al resto d'Europa mi ha fatto la conoscenza effettivamente leggendo il libro e proprio in quei passaggi a cui tu facevi riferimento nel rapporto tra monaci irlandesi e mare ritorna in una maniera più vedente questo tema proprio di come un certo tipo il silenzio diciamo che cercano i monaci non è il silenzio assenza di suono in qualche modo come come lo intenderemo noi ma appunto può essere un quasi un suono di sottofondo indistinto che però consente questo slancio meditativo a cui tu facevi riferimento questo è un punto davvero molto importante su cui varrà la pena tornare magari anche nelle considerazioni finali che faremo su questo libro però adesso sempre restando appunto in tema di suoni ci sono anche degli oggetti in qualche modo che costruiscono la presenza antropica dal punto di vista sonoro all'interno della foresta che segnano la presenza dell'uomo all'interno della foresta oggetti che hanno un valore estremamente differente e che tra l'altro portano potremmo dire non solo alla presenza del suono ma anche alla presenza quasi della musica so che tra l'altro è un altro come dire aspetto di interesse penso al corno chiaramente tu evochi soprattutto in relazione alla caccia di cui citi delle testimonianze che sono come potremmo dire prevedibilmente delle testimonianze prevalentemente francesi insomma comunque centro-nord-europee non so se venisse usato anche in Italia non so se ne sai qualcosa al riguardo ma naturalmente penso soprattutto oltre al corno alle campane che hanno un ruolo importante in questa storia di cui ti chiedo di dirci qualcosa sono diciamo tra gli strumenti che possono essere scuditi anche nella foresta il corno appunto soprattutto grazie all'utilizzo nella caccia sì effettivamente le fonti sono soprattutto francesi il corno veniva usato anche in Italia però questa pregnanza sonora del suono del corno è un po' più centro-europea in effetti ed è interessante anche lì perché un po' come per l'acqua il suono del corno ha un che apparentemente è sempre lo stesso può avere delle risonanze culturali quindi percettive variabili che sono spesso legate all'esperienza della caccia cioè il fatto che il corno segnali non solo l'inseguimento dell'animale all'inizio della caccia ma anche la sua cattura e la sua uccisione lo associa anche appunto a questo passaggio tra la vita e la morte che si può manifestare anche in contesti non venatori il famoso Orlando che suona il corno per annunciare la propria morte è per un ascoltatore del medievo centrale certamente un elemento che unisce l'esperienza venatoria e l'esperienza della morte del guerriero cioè è molto più credo legato proprio a questo momento di passaggio che non ha un'associazione tra caccia e guerra su cui ero più sicuro una volta di adesso anche se certamente in parte c'è le campane che si potevano udire anche nei boschi e nelle foreste perché c'erano delle cappelle c'erano nei monasteri che potevano essere circondati appunto da grosse masse arboree invece hanno un suono che è evidentemente un messaggio che può avere a che fare con il tempo ma soprattutto con la dimensione spirituale perché il messaggio delle campane invece è fortemente associato alla preghiera tanto che fin da epoca carolingia era in vigore l'uso di battezzare le campane di dare loro dei nomi Carlo Magno aveva anche approvato a stoppare questa deriva che gli sembrava lui ai suoi consiglieri eccessiva però di fatto si è continuato a battezzare campane fino almeno al XVIII secolo e il suono delle campane naturalmente scacciava anche i demoni dell'aria e allontanava le creature maligne che potevano essere presenze assolutamente reali nella cultura di quell'epoca quindi il suono delle campane aveva questo significato multiplo anche lì poteva esserci un'associazione con il passaggio verso l'aldilà ma in una dimensione decisamente più spirituale e positivamente connotata in chiave cristiana ed era un suono che all'interno della foresta certamente significava significava la presenza di una fonte di un'emissione cristiana in questo senso e quindi poteva anche andare a opporsi a quella componente sonora negativa o minacciosa che nella foresta c'era la foresta poteva produrre suoni che erano letti variamente in termini positivi o negativi potevano essere associati appunto tanto al paradiso terrestre quanto agli inferi e alle minacce diaboliche a seconda del contesto la campana tendeva a essere molto schierata in questo senso era risolutiva Dici molto bene Dico anche che nel libro tra l'altro c'è anche una piccola storia potremmo dire della campana cioè di come la campana diventa un percorso per nulla scontato e monolitico diventa un simbolo cristiano e soprattutto potremmo dire la grande campana un'invenzione alto medievale di fatto C'è un breve riassunto in questo senso E ecco e la campana effettivamente come dici bene proprio lo spieghi molto bene nel libro finisce per essere uno di questi marcatori antropici che ha una funzione forte anche di cristianizzare che potremmo dire uno spazio uno spazio complesso ma in buona misura anche ostile come quello della foresta quindi così come non so pensando per esempio ai racconto della fondazione di San Giovanni al Voltuno la cappella diventa dal punto di vista fisico dell'edificato ciò che cristianizza lo spazio c'è anche una dimensione acustica che è proprio ben rappresentata dalla campana ecco nel tuo libro c'è anche un capitolo molto interessante dedicato all'analisi delle fonti iconografiche potremmo potremmo dire così tra l'altro ci sono diversi passaggi davvero molto gustosi anche dal punto di vista narrativo molto molto riusciti io devo dire che quando ho letto la descrizione di San Donnino rappresentata diciamo in basso rilievo nel Duomo di Fidenza effettivamente uno si fa proprio l'idea molto dinamica insomma di quello che sta accadendo e poi diciamo hai raccontato molto bene insomma quello che era l'intento dello scultore ecco allora che ha a che fare potremmo dire che hanno a che fare le fonti iconografiche con con i suoni con i suoni della foresta ti chiedo di dirci qualcosa al riguardo e forse possiamo partire proprio dal commento dell'Apocalisse del Beato di Liebana che mostra come dire quante possibilità ci siano nella rappresentazione addirittura del silenzio e come qualche cosa poi ci riporti esatto ci sono due modi di rappresentare il silenzio di rappresentare il suono uno è rappresentare fonti sonore senza che ci sia un'esplicita volontà di rappresentare il suono quando viene disegnata appunto l'acqua corrente nel caso del basso rilievo appunto di Fidenza in cui ci sono le linee ondulate prima del terreno e poi dell'acqua si ha con i cavalli che passano sopra le linee ondulate del terreno e poi le persone che si entrano nell'acqua di nuovo rappresentate come una linea ondulata poi facevo anche un'associazione in cui però si apre uno scenario un po' più lungo da descrivere tra le linee appunto con cui si rappresenta l'acqua e il ductus della scrittura però questi sono appunto i suoni che vanno letti implicitamente cioè vengono descritte situazioni in cui il suono è implicito poi ci sono dei modi espliciti di rappresentare il suono che sono soprattutto legati alla voce o c'è anche il corno una volta rappresentato chiaramente evoca un suono ci sono è interessante vedere come è rappresentata la voce che molto più spesso dei filatteri con il fumetto si utilizza invece una tecnica gestuale ci sono gesti particolari che significano che si sta parlando e poi c'è il caso particolare degli apocalissi del Beato di Liebana sono dei caso veramente molto particolare interessantissimo manoscritti spagnoli del X-XI secolo in cui il momento che precede l'apertura del settimo sigillo appunto viene descritto attraverso il disegno si dice si fece silenzio in cielo e questo in questi manoscritti viene rappresentato il silenzio cioè ci sono delle pagine in cui si disegna il silenzio e a seconda dei manoscritti varia un po' questa rappresentazione in alcuni casi è semplicemente un rettangolo di pergamena che viene disegnato il bordo e il resto viene lasciato in tons in un altro caso è interamente colorato di un colore oro e in qualche altro caso invece ci sono dei fiori all'interno questo è interessante perché la rappresentazione del silenzio è vista sia come una cromia omogenea ma anche come un'evocazione appunto di un aspetto del creato cioè fiori fiori erba e quindi io vedo anche un possibile nesso con le tante decorazioni floreali che prevalgono nei chiostri dei monasteri per cui c'è questo elemento di evocazione della presenza della natura all'interno di un edificio mi pare potrebbe essere appunto associato al voler rappresentare quel tipo di silenzio cioè il silenzio che è quello che dicevamo prima la natura ha un rumore di fondo un fondale sonoro in cui si ricrea un paradiso terrestre che viene evocato anche dal chiostro in cui deambulano i monaci in preghiera e anche non in preghiera e se vogliamo c'è un interessante spostamento di proprio percettivo in questo caso dal silenzio come è inteso nel libro dell'Apocalisse perché si fa silenzio prima delle trombe del giudizio si apre il settimo sigillo in modo sonoro ma prima c'è questo silenzio che è un silenzio di tensione di attesa questo silenzio di tensione di attesa dagli amanuensi di questi commenti all'Apocalisse viene però visualizzato in un modo che più che la tensione all'attesa rimanda al silenzio monastico quindi anche un silenzio che a un certo punto può avere un aspetto puramente contemplativo quindi un rettangolo monocromo ma anche una rappresentazione contemplativa che rimanda ad elementi naturali e questo mi sembra assai significativo di quel dialogo appunto tra cultura e percezione di cui si diceva all'inizio che mi interessava molto andare a cercare senti senz'altro visto che lo metti espliciti anche diciamo il tuo curriculum che hai pubblicato su online su Accademia tutti interessi molto degli animali nel Medioevo del mondo animale nel Medioevo ed effettivamente in questo libro c'è una riflessione molto interessante su proprio attraverso lo studio del del sonoro insomma delle fonti che menzionano diciamo la percezione dell'elemento sonoro c'è una riflessione molto interessante sulla dimensione emotiva del rapporto tra uomini e animali che è una dimensione potremmo dire ancora una volta non univoca cioè ci sono le reazioni di paura soprattutto nei confronti dei versi degli animali feroci innanzitutto dei lupi con tutto come dire l'universo simbolico che si portano si portano dietro anche in termini negativi ma poi ci sono anche c'è anche invece in qualche modo la paura mista fascino potremmo dire nei confronti invece di altri comportamenti degli animali a me ha colpito molto il racconto contenuto nella vita Ivermari di tornare di Ivermari insomma in questo racconto fantastico potremmo dire in cui in cui ci si trova di fronte a potremmo dire una danza di cervi che avviene tra l'altro il primo maggio sono andato a vedere qual è la stagione dei barriti dei cervi che invece è tra settembre e ottobre quindi quello è il momento in cui diciamo i cervi fanno rumore questa invece è tutta una danza silenziosa potremmo dire per i cervi che comunicano tra di loro in cui potremmo dire tutto il fantastico ma anche tutta la meraviglia se vogliamo di fronte al mondo al selvatico e al mondo al mondo naturale e ti chiedo insomma di parlare c'è anche una cosa importante ed è la capacità dell'animale in alcune circostanze di riconoscere senza alcuna mediazione la presenza del santo o addirittura delle sue reliquie questo fa sì che ci sia amicizia tra l'animale e il santo eremita fa sì che l'eremita difenda l'animale dai cacciatori e in qualche modo questo sempre di nuovo anche dal punto di vista acustico svela una doppia gemellarità da un lato il cacciatore che insegue le fiere che sono in quanto feroci appunto suoi suoi fratelli in qualche modo suoi gemelli proprio perché si possono difendere possono attaccarlo oppure insegue i cervi in cui vede riflesso simbolicamente anche il proprio il proprio potere sul territorio dall'altra parte invece il santo che stringe amicizia con chi lo riconosce istintivamente in quanto tale e in questo modo si specchia invece nell'armonia del mondo nell'armonia del paradiso terrestre che va a instaurare nel suo territorio potremmo quasi dire all'interno del suo campo energetico se non fosse furiero di equivoci nella cultura di oggi un'espressione del genere e quindi questo tipo di legame con il mondo animale evidentemente ha un'articolazione una complessità che sfugge tende a sfuggire oggi a noi sommato che qualunque atteggiamento possiamo avere nei confronti del mondo animale non abbiamo certamente un legame di dialogo così intenso e di direttore o di gemellarità o di contrapposizione che va a coinvolgere la stessa salvezza dell'anima o il dialogo con anche una dimensione metafisica quindi c'è una ricchezza percettiva potenziale ripeto perché non è naturalmente sempre così però potenzialmente sempre possibile sempre lì a disposizione quindi c'è in quello che hai chiamato un punto legame emotivo in realtà un qualcosa che non è che è percettivamente emozionale ma che va a significare un legame di conflitto o di armonia con il creato che è quello stesso a cui si accede attraverso magari lunghe riflessioni e discorsi ma in modo invece diretto istintivo e di grande intensità e di grande immediatezza il suono è parte di questo hai parlato appunto di dialogo e appunto qui siamo proprio come dire in uno degli assi del tuo libro cioè il dialogo presuppone l'ascolto quindi per ascoltare bisogna avere una certa inclinazione al silenzio ma il silenzio inteso in maniera medievale che come abbiamo detto non vuol dire assenza di suono ma vuol dire capacità per esempio di di ascoltare la voce interiore o predisposizione rispetto a una serie di di suoni e rumori che esistono in natura e che non hanno potremmo dire invece la rumorosità del mondo insomma come compare anche in alcuni degli autori che citi Pietro il denerabile in particolare ad un certo punto citi dice chiaramente nella foresta si si ritrova diciamo si acquietano i rumori i rumori del mondo e quindi diciamo la capacità di ascolto vuol dire che c'è una capacità recettiva dell'uomo medievale in particolare soprattutto dei monaci potremmo dire che è anche quella di una qui ti cito di una di una cultura dell'ascolto e della sensibilità ai suoni che indirizza la percezione acustica di chi cercava Dio nella densità della selva o di riflesso nella quiete del chiuso per chi è capace di ascoltare per chi cerca la voce di Dio si ecco questa voce la si può trovare nel chiotto oppure anche proprio nella foresta quindi questa è una tesi importante in qualche modo mi sembra che in qualche modo si è già immersa anche attraverso la nostra chiacchierata ma che è una tesi importante anche nell'economia del tuo libro proprio perché ci porta a riflettere anche sul tema appunto della della neuroscienza potremmo dire di qual è la capacità percettiva dell'uomo di qual è la capacità percettiva dell'uomo medievale un po' come anticipavo se vogliamo mi sembra che la tua tesi sia che non possiamo applicare in maniera schematica i paradigmi delle neuroscienze perché dobbiamo considerare quello che è il ruolo della cultura medievale diciamo all'interno di quei paradigmi culturali che noi dobbiamo applicare qualsiasi tipo di analisi quindi ti chiedo intanto se ho capito bene e poi naturalmente anche di qualcosa di queste riflessioni hai capito benissimo quello che propongo in qualche modo è di nello studio del passato e nello specifico del medievo di medievalizzare le neuroscienze cioè evitare come dire un atteggiamento universalista e un po' colonialista per cui dal presente si parte verso il passato con armati di scienza anche di scienze molto interessanti e rigorose dimenticandosi appunto che la percezione è condizionata dalla cultura per cui se i miei ricettori visivi olfattivi acustici sono gli stessi di quelli delle persone di mille anni fa la decodifica passa attraverso anche delle componenti culturali che rendono la mia percezione la loro percezione diversa dalla mia questo può essere in realtà volendo trare una conclusione e la conclusione che trago molto istruttivo per superare alcune aporie dell'atteggiamento anche positivo e benintenzionato del nostro tempo nei confronti della natura appunto che di fatto nonostante il contributo delle neuroscienze possa portare verso di nuovo finalmente verso l'idea di una caduta delle barriere tra uomo e natura questa caduta delle barriere rimane su un piano estremamente riduzionistico perché questa è la caratteristica della scienza oggi una scienza assolutamente riduzionista basata sull'osservazione di fenomeni materiali tutto ciò non può essere applicato to cure al medioevo e può essere invece di grande arricchimento come medievalizzarsi un po' nella percezione del mondo con questo tipo di attenzione ai suoni nel mio caso che permette appunto forse di reintensificare l'esperienza dell'immersione nella natura nella natura creato fermo restando che la nostra esperienza della foresta adesso è estremamente povera rispetto a quella dei medievali che erano molto più familiari all'interno della foresta quindi sapevano quello che succedeva nella foresta sapevano molto meglio di noi decodificare i suoni della foresta come appunto non lo sanno fare sempre tra virgolette primitivi ecco questo è davvero sono d'accordo con te insomma proprio sul fatto che qui c'è il grande tema dell'ecologia medievale e in qualche modo anche quello che il take away del tuo libro insomma quello che ti porti a casa come insegnamento anche nella relazione con la contemporaneità c'è dietro chiaramente anche una serie di riferimenti storiografici di riflessioni tu citi molto Bachet ma anche penso alla tesi di Lin-White Junior proprio relativamente alla crisi ecologica che avviene soprattutto alla fine del medioevo e nell'età moderna nel momento in cui cambia questa relazione a cui tu facevi a cui tu facevi riferimento e nello stesso tempo c'è appunto un un universo che si può trovare all'interno dei boschi seguendo appunto un universo di segni innanzitutto che si può trovare nei boschi soprattutto seguendo le piste di quelli che sono quegli straordinari osservatori del medioevo vale dire i monaci insomma quindi quando quando Bernardo da Clairvaux dice troverai più nei boschi che nei libri non vuol dire che lui creda non riconosca il valore dei libri ma vuol dire che è come dici tu in qualche modo è lì nei boschi che si trova quell'insieme di segni che apre al dialogo con Dio e quindi la possibilità potremmo dire i suoni del paese direi che possiamo concludere così hai colto perfettamente il punto ecco direi che il tempo l'abbiamo passato bene e un po' alla fine questo è effettivamente è anche il mio auspicio cioè il fatto che andare verso il passato e cercare di conoscerne alcuni aspetti entrando facendo compiendo un viaggio che ci permette di entrare in un'altra cultura che per quanto possa essere tra le radici della nostra non è più la nostra possa essere effettivamente molto molto istruttivo e possa darci delle utili indicazioni anche su come come vivere alcune esperienze direttamente grazie a te allora e credo che a questo punto ripassiamo la parola a Maurizio sì io credo che tutti i nostri videoascoltatori dopo aver sentito parlare di questo libro abbiano il desiderio di correre in libreria ad acquistarlo quindi io ricordo il titolo che è Nella selva silente suoni e silenzi nelle foreste medievali secolo VI e XIII di Paolo Galloni con la partecipazione dell'amico Riccardo Rao che io ringrazio tantissimo per averci raccontato di questo fantastico libro ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troverete tutte le nostre video presentazioni grazie ancora e a presto grazie a tutti Grazie a tutti.